Sustenium, oggi? Vediamo, energie e ritmo un po' giù, prova nuovo Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico. Bioritmo 3? Tre fasi a rilascio ritmato. Primo rilascio favorisce il tuo metabolismo energetico. Secondo rilascio favorisce la tua funzione cognitiva. Terzo rilascio aiuta il tuo sistema immunitario, anche per donne oltre 60. Sustenium Bioritmo 3 multivitaminico.